che emozioni provate in questo giorno così importante beh sicuramente tante descriverle allora gioia sicuramente un sacco di affetto e siamo veramente pieni di gioia di affetto adrenalina adrenalina anche un po di coraggio che ci vuole anche in questi casi da quanto tempo stati insieme quasi quattro anni quasi quattro anni ci siamo conosciuti nel 2020 per caso con grazie ai nostri amici perché avete deciso di votare nonostante i festeggiamenti perché sicuramente importante è un dovere civile e anche un diritto civile quindi sicuramente anche nel giorno nostro matrimonio è capitato così quindi perché no soprattutto per visto tutte le persone che hanno sacrificato anche la loro vita per darci questo diritto quindi mi sembrava il minimo oggi venire qua come prosegue la vostra giornata allora andiamo a fare altre due foto sicuramente e poi andiamo verso il cibo esatto e poi a far festa che raggiungiamo raggiungiamo i nostri invitati le nostre famiglie i nostri amici e festeggiamo il film stasera sì esatto